Noi abbiamo sofferto moltissimo, questa pandemia ci ha portato lutti, dolore, ma la lotta di chi continua a cercare una soluzione è una sfida importantissima. Grazie a una lunga esperienza, il nostro stabilimento è stato scelto per contribuire alla produzione del vaccino Sanofi contro il Covid-19. L'Italia è certamente importante per Sanofi, ma Sanofi è importante per l'Italia oggi. L'obiettivo è mettere a disposizione per la sanità pubblica, con la sanità pubblica, il vaccino Covid-19 Sanofi-GSK nella seconda metà del 2020. L'Italia è entrata in primis in Europa nella pandemia. L'Italia è stata in primis in grado di dare delle risposte e di tracciare il cammino per combattere la pandemia. I nostri operatori non si sono mai fermati. A loro va in questo momento un sincero apprezzamento e ringraziamento per lo sforzo che stanno facendo in tutte le strutture. Io ritengo che la giornata di oggi sia fondamentale perché trasmette speranza, fiducia. I Sanofi, come altre grandi imprese internazionali, debbono continuare a credere nel nostro Paese. Non dobbiamo guardare a questi mesi come una partita finita. Abbiamo ancora mesi duri, poi io sono convinto che l'uomo vincerà questa sfida.